Non ha avuto vita facile Silvia Toffanin con Anna Oxa, intervistata nel salotto di Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 2 maggio. La cantante, parlando di musica e soprattutto di Sanremo, ha affrontato l'argomento in modo molto vivace, tanto che la Toffanin l'ha più volte invitata a focalizzare il discorso. Dopo aver visto un video che ha ripercorso l'intera carriera di Anna, è poi iniziata una serie di domande che si focalizzavano sulla vita della cantante, dalla denuncia per stalking all'invito da parte della conduttrice a difendersi. Le risposte sfuggenti e filosofiche di Anna non hanno però soddisfatto la Toffanin, che ad un certo punto ha esclamato, io e te finiremo con il litigare, Anna. Silvia poi ha concluso l'intervista dichiarando, Anna, non ci sto capendo più nulla, chiamate qualcuno per fare questa intervista, non so, un filosofo.